Il piccolo comune di Monte Ciccardo, poco più di 1.600 abitanti, si fonderà con quello di Pesaro. È l'esito del referendum consuntivo di ieri, nei due centri. A Pesaro ha votato a favore l'82,98% dei votanti, in tutto 5.498, con una fluenza del 6,99. A Monte Ciccardo ha votato invece sì il 76,61%, 1.301 votanti complessivi e l'affluenza è stata del 63,26%. Una votazione plebiscitaria a Monte Ciccardo che non lascia spazio a nessun tipo di interpretazione ma che investe ora le parti interessate, soprattutto il versante pesarese, di un carico di responsabilità non indifferente. Anche a Pesaro il risultato è stato netto, dice Ricci, anche se l'affluenza non è stata delle più alte. La difficoltà è stata spiegare ai pesaresi che dovevano votare anche loro, ricordando ovviamente quanto già successo con Monbaroccio. Oggi il comune è più forte, più grande e credo che questo ci consenta anche di aprire una prospettiva nuova perché credo che il territorio della bassa Val del Foglia sia molto omogeneo. Abbiamo già un'unione dei comuni insieme e io credo che nei prossimi mesi dovremo cominciare a ragionare se questa unione dei comuni, soprattutto per i comuni della bassa Val del Foglia, può diventare nei prossimi anni addirittura un'entità amministrativa unica. E quindi come dire, è un voto che dà anche forza al processo aggregativo e che ci consente di rafforzare ulteriormente la nostra città aiutando un territorio bellissimo ma che aveva difficoltà amministrative. Ora un articolato e complesso lavoro aspetta l'amministrazione partendo da un risultato così ampio è facile intuire che le aspettative dei cittadini sono alte, viste anche le difficoltà dalle quali proviene il piccolo comune che porta però in dote una radicata tradizione associazionistica e il suo bagaglio culturale e paesagistico che arricchirà l'offerta turistica dei due comuni mettendo in contatto il mare con i borghi dell'entroterra. Abbiamo una grande possibilità di sviluppo del territorio, naturalmente dobbiamo organizzarci sul territorio quindi la costruzione del municipio, intessere tutti i rapporti con peso sarà un lavoro estremamente impegnativo. Il nuovo municipio di Monte Ciccardo quindi come prevede l'accordo potrà dare anche parere vincolante sulle questioni inerenti al suo territorio e continuerà a erogare i servizi di anagrafe, cultura, sport e servizi sociali immutati resteranno i servizi scolastici e di scuolabus che verranno anche migliorati. Ora la proposta di fusione mercoledì approderà in consiglio per la ratifica dopodiché entro aprile la Regione Marche farà la legge.